buongiorno ragazze oggi prepariamo la crema pasticcina e c'è un segreto per non far venire i grumi e per farla proprio in velocità io metto tutto insieme la farina poi troverete la ricetta lo zucchero quindi ho messo prima le polveri poi metto il latte metto tutto insieme le mie uova e mescolo tutto eccolo qui e adesso guardate che cosa faccio questo è un segreto che vi viene benissimo ecco qui ho mescolato tutto con il mio mini primer vado a mettere la buccia del limone per dare il sapore guardate qui come bello mescolato e naturalmente non farà grumi adesso io metto il mio coperchio magic poker metto sul fuoco a fiamma pasta fino a che non vuole un po poi mescolo velocemente si sarà addensato e la nostra prima sarà pronta guardate come per la cremosa la mia crema è pronta guardate qui ancora calda quindi adesso la faremo raffreddare o fuori dal frigo o dentro al frigo con la pellicola sopra come per la crema è strano noi e quando si raffreddi un piccolo io e quando si raffredda o fuori dal frigo con la pellicola c'è un po' che io e quando si raffredda o succo a la pellicola